Allora, vediamo un po', visto che ho anche voi presenti e visto che ci troviamo anche con le notizie fresche dei giornali, facciamo un po' di chiarezza anche ai telespettatori. Detto che sta burocrazia, vabbè, ci stiamo navigando dentro, ma comunque non vediamo via d'uscita. Cerchiamo di dare una via d'uscita se c'è, almeno alla chiarezza di chi ci ascolta per quel che riguarda le prossime elezioni. Quindi, cappelli, agua, dove sta, dove si mette come si pone? Fratellone, Manfrin, che cosa state facendo? Dateci qualche lume, anche se so che tutti i giochi sono ancora per aria, diciamo così, perché le alleanze si devono ancora comporre. Ma intanto, giusto per smentire o confermare quanto dicono i giornali? Per quanto riguarda le liste civiche, per quanto riguarda le prossime elezioni. Le elezioni amministrative, intanto diciamo subito che sono diverse da quelle politiche, per cui qui contano le persone e non intanto i partiti, anche se fuori partiti, cercano di fare delle coalizioni. Non si vota solo a pallo, ma si vota un po' in tutta Italia, quindi il discorso è generico e vale per tutti. Le liste civiche, secondo alcuni sondaggi attendibili, costituiscono il 30% dell'elettorato che voterebbe volentieri le liste civiche, perché nelle amministrazioni bisogna votare l'uomo, la nonna, l'amministratore, la persona che ha delle capacità, che ha dei rimiati requisiti, che non abbia avuto male in pasta della politica, molto probabilmente, o marginali, senza avere nessuna autorità, che sia una persona che abbia un flusso valore per poter aggregare altre liste civiche, naturalmente anche i cittadini che non li conoscono come una persona, per me, che venga dal mondo civile soprattutto e che abbia una visibilità e un volto, anche se non conosciuto, comunque una persona apprezzabile. Ecco, questo è il nostro obiettivo per cui abbiamo costituito, per quanto mi riguarda Palo, una decina di liste civiche che si vedono, si accomunano in un programma unico che è questo, la sicurezza, la burocrazia e tante altre belle cosette. Siamo tutti d'accordo, però adesso sono passati i tempi delle contrapposizioni tra la destra e la sinistra, perché in effetti vogliamo tutti la stessa cosa, soltanto che ciascuno vuole conservare il proprio luogo nella propria partita, ma siamo tutti d'accordo. Ma voi avete preso degli accordi, come dicono sui giornali, con qualcuno? No, mi hanno attribuito accordi con l'uno o con l'altro, ma noi restiamo in centro, abbiamo interesse ad essere da soli, però non escludiamo una collaborazione se i numeri e i programmi e gli intenti sono comuni e ci portano a ballottaggio. Cioè nella sostanza. Se siamo determinanti per un ballottaggio, volentieri ci confronteremo con chi ci farà delle proposte. Noi come liste civiche, qualcuno ha preso anche un'altra strada perché vuole conservare la sua bandiera e il suo statuto, legittimamente, perché ognuno può fare quello che crede, siamo rimasti in 7-8, se non ricordo più, però molto sostanziosi, sono liste molto importanti con dei candidati che sono apprezzati sulla piazza e che riescono a avere anche il consenso. Ecco, noi siamo sulla piazza, qualcuno ci vendiamo, noi non vendiamo nessuno. L'associazione Utenti Auto da 23 anni esiste per difendere il cittadino, l'automunista e l'automunista, non ha mai partecipato né alle politiche né alle amministrative. Questa volta metto in campo l'associazione perché 10.000 associati di Padova, io spero che non dico ci diano il voto, altrimenti diventeremo sindaci subito al primo corpo, però insomma che si ricordino quello che l'associazione ha fatto per loro. Ecco, quindi faccio appello. Poi l'altra cosa, l'ultima cosa, poi chiudo, ma i cittadini vogliono cambiare le cose, vogliono, vogliono, sono contro, però nessuno, o pochi, pochissimi, voglio partecipare alle vostre azioni, voglio partecipare ai vostri convegni, alle vostre unioni, voglio candidarvi nelle vostre liste, perché voglio essere protagonista di un cambiamento. No, tutti protestano e qualcuno dice anche impropriamente, allora per protesto lo vado lei a votare, sbagliato, perché non andare a votare vuol dire essere asettico, stare lì, aspettare che gli altri decidono per lui, e lui che deve decidere, il cittadino sovrano deve decidere, forse è dei numeri, avrà anche delle opportunità di far valere le sue, però se si aggrega a una civica, allora ha dante possibilità di poter effettivamente cambiare le cose. Quello che dice Adolfo Cappelli è assolutamente condivisibile, anche perché abbiamo fatto questa esperienza, diciamo sinora, in modo appaiato assieme, cercando da un lato di guardare intorno quello che proponevano gli altri, e dall'altro di riscoprire il significato di una lista di cittadini che non ha fatto politica. Questo ha sicuramente un grosso limite, perché il funzionamento di una macchina comunale, parlando delle amministrative che impegnano il Comune di Padova, ma lo ricordo ci sono oltre una sessantina di comuni solo in provincia di Padova, richiede energie e richiede anche conoscenza oggettivamente, ma oggi questo viene riconosciuto da tutti come sostanzialmente un disvalore, cioè è preferita una persona che provenga da ambienti esterni che non sia stata ancora contaminata tendenzialmente dalla politica, la quale non viene vista, perché la politica viene confusa spesso dai cittadini, da tutti, da me compreso fino a ieri, diciamo con l'aspetto partitico, che è cosa affatto diversa. Quello che abbiamo compreso è che bisogna, ripeto, ci stiamo ragionando da tempo, ripartire dalle esigenze dei cittadini, non dai dogmi. Tra l'altro ci sarà anche l'esperienza delle europee il 25 maggio, che comporterà degli sconquassi, io prevedo, molto grandi, non forse altro stiamo assistendo ai cambi di orientamento, ad esempio in Francia, ma nella stessa Inghilterra, dove si stanno ponendo problemi persino di restare in Europa e ricordo che loro, ad esempio in Inghilterra, Regno Unito, sono fuori dall'area euro, pur possedendo una quota della BCE, che lo ricordo è un consorzio di banche private che emette la moneta e la vende a banche private italiane, la quale poi la vende agli stati, ricaricandoci il prezzo, queste cose è bene ricordarsene. A livello di amministrative stiamo ragionando con i vari candidati, abbiamo avuto degli incontri ieri, l'altro ieri, con gli altri candidati, perché con le nuove regole elettorali bisogna avere il 4% per superare la soglia, ma poi qualora non si riesca ad avere una maggioranza di assoluto rilievo, si va a un balottaggio dove ci vuole un minimo un 15%, che oggettivamente è tantissimo, soprattutto se il panorama è molto frazionato, e per essere credibili bisognerebbe arrivare almeno al 18-20. Queste prospettive non possono averle da sola in liste civiche, questa è la mia impressione, e quindi c'è un'esigenza di sintesi degli interessi dei cittadini, perché altrimenti solo chi avrà una macchina, un orologio in cui i meccanismi sono perfettamente lubrificati, cioè partiti istituzionali che hanno sezioni di partito e che sono organizzati, riusciranno a muovere la macchina elettorale. Il singolo cittadino, che ai noi è spesso disperato, sfiduciato, vessato anche dalla mala burocrazia, a questo punto magari rinuncia ad andare a votare, mentre un appoggio a un gruppo compatto e coeso può essere determinante per cambiare. Quindi stiamo ragionando proprio in questo senso, perché le alleanze diventano necessarie con il sistema elettorale che c'è. Il Comitato Stanga cosa dice? Allora, il Comitato Stanga appoggerà, io come Presidente del Comitato Stanga, riferisco questo, che è quello che ha deciso il Comitato... Precisiamo, è un quartiere di... È la Stanga, dei Bianelli, il muro, il Bronx, il Bronx di Padova, e comunque non è che si sia migliorato tanto di più. Molte cose sono state fatte grazie al Comitato, sono state chiuse le palazzine, facciamo una breve sintesi. Allora, il Comitato Stanga ha questa decisione, appoggerà tutti i candidati della Stanga. Se non ci fosse nessuno alla Stanga che si candida, non andiamo a votare perché non ce ne può fregare meno, perché siamo campanilisti, siamo stufi di vedere gente che ci dice, ci racconta la storia dell'orso e poi alla fine non fa niente, per cui tutti quelli, noi faremo adesso una sorta di raccolta di nomi, di possibili nomi che si candidano e dopo che li sponsorizziamo tutti quanti distintamente di destra a sinistra, in base alle preferenze di ognuno dei residenti della Stanga, in modo che vada su uno della Stanga, perché poi vediamo che se non va su uno del quartiere non ce n'è per nessuno, cioè non arrivano soldi, non vengono fatti progetti, non viene fatto nulla. Beh, la De Ganni è della Stanga, te lo ricordo solo perché io avendo abitato fino a poco tempo fa in Via Martiri conosco la realtà. Sì, se anche lei sponsorizzeremo tutti quanti nella stessa maniera, in particolar modo, in particolar modo, era della Stanga, comunque nel senso che non la vedo girare ultimamente. Quando è stata eletta? Allora, in particolare Manfrin Paolo che è un uomo libero, comunque ha trovato una buona sintesi con Andrea Colasio che si candiderà a sindaco e mi pare che con scelta civica, scelta i documenti e i programmi che la Stanga ha, per il momento lui ci... Ma voi credete a chi, in qualche modo, conosce la realtà e può fare qualcosa per la vostra realtà? Conosce la realtà, conosce quelle nostre esigenze perché la Stanga è la porta d'entrata della città ed è un po' il fulcro della città. Quindi andate con l'assessore di Volossi che è in carica in questo momento? No, non andiamo con l'assessore di... È assessore di questa giunta comunale, mi fa piacere saperla. Assessore, non andiamo, va, ho detto Paolo Manfrin. No, va bene, ma se voi lo appoggiate, appoggiate l'attuale assessore della giunta Rossi. No, se voi, ripeto, deve parlare al singolare perché Paolo Manfrin, non il comitato... Appoggiate, come il comitato? No, no, non sto dicendo questo. Ho appena detto che il comitato appoggia tutti i candidati, in particolare Manfrin Paolo sta dando una mano a Colasio, ok, perché a me piace personalmente, perché ho visto che comunque ha dei programmi che si affinano molto con quelli che abbiamo noi idea di una nuova stanga. Se ci saranno altri candidati che condividono il nostro percorso, benvengano, ci saranno, ci sono... Siccome il comitato non è solo Manfrin Paolo, ma c'è un gruppo di persone, vuol dire che ognuno per competenze partitica o di ideologia seguirà questo e sponsorizzà questo. Per cui se c'è un suo addetto alla stanga, me lo fa sapere e vedrà che io le troverò chi l'appoggia e chi gli darà una mano a portare avanti i programmi. Allora, grazie, siamo arrivati al termine, grazie anche Adolfo Cappelli, grazie a voi di aver partecipato, ai nostri telespettatori, appuntamento naturalmente a domani. Buon proseguimento.